Questa sera iniziamo la nostra lettura della Passione secondo Giovanni, la iniziamo con una considerazione di ordine strettamente teologico riguardante appunto la teologia giovannea. È un elemento a cui abbiamo accennato molto tempo fa quando abbiamo iniziato questo cammino nell'interno del Vangelo. È un elemento che di solito viene posto da tutti i commentari proprio in apertura, nell'introduzione. Si immagina che il Vangelo di Giovanni abbia sottilmente al suo interno una struttura di tipo dibattimentale. Tant'è vero che uno dei grandi capitoli fondamentali di uno dei celebri commentari al Vangelo di Giovanni del Novecento, a suo tempo già citato, il discusso commentario di Bultman, ha proprio un grande capitolo intitolato Il processo di Gesù. E questo grande processo scatta, si può dire, fin dalle prime battute. Quando emerge, come ricorderete, quella realtà che è la realtà della scotia, la realtà delle tenebre, quelle tenebre che poi diventeranno mondo, cosmos, che poi si trasformeranno in o iudaioi, i giudei, tanti emblemi, tanti vessilli del rifiuto del Cristo. Ecco, questo processo ha alla base una domanda, una domanda che Bultman ha formulato con un termine che è diventato tecnico nel linguaggio teologico della lettura di Giovanni. La legittimazione sfraghe, cioè la domanda di legittimazione che viene indirizzata a Gesù. Tu, chi sei realmente? E con quale autorità tu compi questo e con quale autorità tu ti dichiari figlio? Figlio con la F maiuscola, il figlio per eccellenza di Dio. A questa contestazione ufficiale, in un contesto che è un contesto giudiziario, non per nulla il Vangelo di Giovanni è continuamente marcato da verbi che sono verbi giuridici. Sentiamo per esempio il verbo crinein, giudicare, giudizio, crima, crisis, crisi, schisma, divisione. Troviamo anche quella figura a cui abbiamo già accennato, il paraclitos, l'avvocato difensore. Ecco, nell'interno quindi del Vangelo questa domanda cade come se fossimo in un'aula di processo, in un'aula di tribunale. Cristo cioè è trascinato davanti a un ideale giudice e deve rispondere a questa domanda fondamentale, la domanda della legittimazione. Ed egli risponde allegando delle prove. Gesù effettivamente accetta la discussione. Quante volte l'abbiamo visto appunto in discussione con i giudei, in reazione di fronte alle loro domande. Ed egli come testimonianza innanzitutto allega il Battista, poi porta la scrittura, poi porta il Padre, poi porta le opere che egli compie, i suoi gesti, questi gesti che hanno in sé una presenza misteriosa dell'Eterno, dell'Infinito. Ad un certo momento anche allegherà la presenza dello Spirito, allegherà anche la presenza dei suoi discepoli. Sono tante testimonianze, ma tutte queste testimonianze inesorabilmente vengono contestate. Tutte queste testimonianze inesorabilmente crollano davanti al rifiuto sistematico di qualsiasi prova di legittimazione. Ed allora il processo si avvia inesorabilmente verso la sentenza. E noi oggi leggiamo la sentenza. Solo che Giovanni, con molta finezza teologica, ha giocato la sentenza quasi su due piani. Infatti noi leggendo questo testo ci accorgeremo sempre di più che il processo sta per avere ora una sentenza che è storica. Quante volte io adesso riferirò, leggendo queste pagine, riferirò degli elementi che sono sicuramente storici, che possono essere confrontati ancora sulle pietre di Gerusalemme, che possono essere confrontati sugli archivi della storia, della storia romana per esempio, anche se si tratta di confronti molto difficili, tante volte proprio molto esili. Questa sentenza è una sentenza storica ed è la sconfitta del Cristo. Cristo è condannato a morte ed è la peggior morte possibile, il servile supplicium, il supplicio degli schiavi. Il suo è un fallimento totale, la sua colpevolezza è piena, la sua, la richiesta di legittimazione non è stata evasa agli occhi degli ebrei e agli occhi dei romani. Per cui egli è per eccellenza lo sconfitto e si erge proprio al centro di queste pagine questa croce. Questa croce che è quasi il grande simbolo giovaneo del fallimento del Cristo. Ma Giovanni, contemporaneamente, proprio leggendo il filmato degli eventi, ora noi sentiremo nella lettura come questi eventi sono immediatamente spontanei, i diretti si possono ricostruire quasi dal vivo, leggendo il filmato degli eventi, ininterrottamente ci trasferisce su un piano che chiameremo metastorico, su un piano che chiameremo trascendente, su un piano che è il piano del mistero, che penetra al di là della superficie degli eventi, al di là dell'involucro scandalizzante di questi eventi, il fallimento di un profeta tutto sommato abbastanza modesto di una modesta provincia dell'impero. E nell'interno di questo Giovanni continua a celebrare la vera sentenza, che è la sentenza della sconfitta del male che nella croce di Cristo è crocifisso, mentre il Cristo su quella croce non c'è più. Perché, e lo vedremo soprattutto la prossima volta, il Vangelo di Giovanni, come già abbiamo fatto balenare qualche volta nell'interno nostra lettura, suppone che la resurrezione di Cristo sia sulla croce. E lì il grande momento in cui Cristo non è semplicemente lo sconfitto come agli occhi umani si può immaginare, è invece il grande trionfatore, è il grande Signore, è il risorto. E allora noi iniziamo questa lettura che deve essere continuamente dosata in questa maniera. Io vi indicherò i segni della prima e della seconda, i segni della sconfitta storica, i segni della storicità e i segni della teologia. Naturalmente questi segni verranno portati a pieno compimento quando leggeremo il mistero della croce nella sua pienezza, per cui idealmente questa lezione comincia ora e finirà sabato prossimo. Quel tutto è compiuto che pronunceremo alla fine, lo ripronunceremo la prossima volta e allora avrà un significato diverso, avrà un tono e un sapore differente perché non è il tutto è compiuto, tutto è finito, sarà invece tutto a pienezza e sempre il verbo sarà quello, la parola sarà quella, il perfetto greco tetelestai. Ecco noi iniziamo la lettura allora della passione secondo Giovanni, quattro scene, noi ne percorreremo soprattutto tre, la quarta e un po' aperta sul discorso successivo del prossimo nostro incontro. Io vorrei che questo viaggio che noi facciamo nell'interno della via Crucis non sia mai chiamato proprio per le ragioni che abbiamo detto la via Crucis, che secondo me è una delle definizioni meno felici che sono state date a questa lettura pia della passione di Cristo. Perché proprio se seguiamo il Vangelo di Giovanni, ormai se seguiamo anche il modo con cui viene celebrato dalla Chiesa Cattolica questa pia devozione che è antica, ha dei secoli dietro le spalle, voi vedete che non si ha ancora più le quattordici cosiddette stazioni, ma ormai si è aperta la quindicesima che è quella della resurrezione e d'altra parte Giovanni anche tenendo quattordici stazioni non vorrebbe mai supporre che questa è la via Crucis. Per Giovanni è la via Crucis et glorie, è la via della croce ed è la via della gloria contemporaneamente, proprio per quei due registri che continuamente si intrecciano, proprio per quei due motivi musicali quasi che proseguono contemporaneamente fondendosi nell'unica realtà misteriosa del Cristo. E direi che questo itinerario noi lo dovremmo fare, anche sarebbe molto bello fare un invito che io rivolgo a voi, siete qui in tanti e non potrete farlo questa volta, non lo potrete forse neppure fare il prossimo sabato e quelli che ascolteranno poi nelle registrazioni lo potranno fare in un'altra occasione, in un altro punto che non è quello di questa sala. Direi l'occasione ideale per leggere la passione secondo Giovanni in questa questa volta sarebbe quella di percorrerla con la via Crucis di Lucio Fontana che con un evento abbastanza eccezionale il San Fedele è riuscito a raccogliere, è riuscito a far sì che non venisse disperso in quelle tristissime soluzioni che sono o le casse forti delle banche dove vengono protette le opere d'arte oppure in qualche casa dalle mura e dalle porte blindate, ma ha fatto sì che ritornasse come deve essere per ogni opera d'arte destinata ad un vero ambito di fede, ad un vero ambito comunitario, la destinata poi questa via Crucis che ha acquistato il centro San Fedele, la destinata alla cripta della chiesa di San Fedele, in modo che continui ancora ad essere una presenza di questo grande artista, di questo artista decisivo anche per il suo approdo, quell'approdo celebre e drammatico se volete del tentativo di andare verso l'infinito, verso il silenzio, il famoso taglio delle sue tele, ebbene questo viaggio che noi facciamo nella passione potrà essere ripreso e rimeditato proprio attraverso la rimeditazione e la contemplazione di un artista così importante del nostro novecento. Prima scena, 18-1-11, questa prima scena sono quattro le scene dei capitoli 18-19, lo scontro Gesù-Tenebre, è uno scontro materiale, ci sono dei soldati, c'è una polizia, c'è un traditore, dall'altra parte c'è un uomo, un predicatore, Gesù di Nazareth, che fa una dichiarazione sulle sue, su quello che egli aveva detto, su quello che egli è, e dall'altra parte però, come abbiamo detto, c'è la scoperta di questo scontro dai contorni cosmici, dai contorni totalmente metastorici, trascendenti, la luce e le tenebre, Cristo e il mondo che si confrontano. Cominciamo innanzitutto con la lettura dei primi tre versetti, entrano in scena i personaggi, i personaggi storici, abbiamo innanzitutto Gesù, vi accorgerete anche ad una lettura proprio di superficie che c'è un altro personaggio accanto a lui, che fa inizialmente quasi da sfondo, sono i discepoli, sono citati tre volte nei primi tre versetti, subito dopo ci incontriamo con l'altra parte l'oscurità, c'è una corte, una corte di soldati, evidentemente è una semplificazione, la corte ero di 200, di 600 soldati, quindi si tratta di una presenza del potere romano e dall'altra parte la polizia giudaica, la polizia del Tempio, quella che era ammessa dai romani come tutela del servizio del culto e degli altri funzionari del Sinedrio. Abbiamo poi nell'interno di questa zona di ombra la figura di Giuda. C'è però un elemento sul quale, vabbè, un po' la fantasia diciamo anche dei padri, ma forse non del tutto così fuori di senso, c'è un elemento sul quale la fantasia dei padri e degli antichi commentatori si è particolarmente accanita. Questa scena avviene in un giardino, un giardino che non è chiamato con la terminologia solita che abbiamo negli altri sinottici, è chiamato col termine kepos, che vuol dire in greco giardino fiorito, giardino verdeggiante. E i padri spontaneamente hanno immaginato che questo fosse un'allusione a quel grande momento, a quel primo giardino nel quale è avvenuta la grande sfida, la sfida tra il bene e il male davanti ad un albero di quel giardino. E voi tutti avete capito che io mi riferisco a Genesi 2 e 3 e all'albero della conoscenza del bene e del male. Non possiamo certamente dire che Giovanni aveva in mente anche questo, però è fuori di dubbio che con quella mentalità semitica. Ricordate anche nell'ultimo nostro incontro quell'accenno che io ho fatto all'ammiccamento, quella mentalità semitica che alle parole dà sempre una calibratura estrema, che le lima, che le cesella, perché le parole non abbiano mai ad essere puramente casuali, ma abbiano sempre ad avere delle risonanze, forse può darsi. Che per Giovanni in quel momento, come nella pagina di apertura il Bereshit in inizio e l'Enarchè in principio, l'inizio della creazione, l'inizio del Cristo si sovrapponevano, così anche qui forse in dissolvenza dietro quel giardino che sta ai piedi del monte più alto di Gerusalemme, il monte degli Olivi, ai piedi di quel giardino. Giovanni veda quasi in dissolvenza, in trasparenza, veda apparire quel giardino iniziale nel quale si è cominciata questa lotta eterna, questa lotta continua che segna la nostra storia. Detto questo Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda il traditore conosceva quel posto perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda dunque presa un distaccamento di soldati corte, spera in greco, di soldati romani e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dei farisei, la polizia del tempio, si recò là con lanterne, torce e armi. Voglio soltanto per un istante richiamarvi un particolare, sempre nello spirito di quella fondamentale importanza che hanno le parole, per cui le parole non sono mai casuali. Noi abbiamo un dato abbastanza curioso, se noi guardiamo questa frase Gesù andò al di là con i suoi discepoli, uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron dove c'era, noi abbiamo un pezzettino, un segmentino piccolissimo di frase che è preso di peso dalla traduzione greca del secondo libro di Samuele, quando si descrive un momento estremamente lugubre della vita di Davide. Si rappresenta Davide mentre sta uscendo dalla città santa, dalla sua città, la sua capitale, quella che lui aveva preso come capitale, assunto come sede del suo regno. E questo cammino di Davide è un cammino che avanza e si indirizza verso quella tragica meta, la meta terminale, quella del deserto di Giuda, dove egli dovrà vivere per un certo tempo come nomade. Egli cammina e la frase dice uscì dalla città e andò al di là del torrente Cedron per cominciare il cammino. E voi sapete che dietro le spalle gli sente un respiro, un respiro di avversari che sono i peggiori possibili, lui ne ha provati di tutti nella sua vita, Davide, di nemici, dei filistei ai suoi stessi compatrioti, pensiamo Saul, il re. In quel momento il suo dramma è il dramma doppio di un re sconfitto e di un padre tradito, perché quelle armate che stanno dietro sono quelle armate ribelli di suo figlio a Salonne. E allora vedete che forse citando proprio questo segmento di frase, forse Giovanni ha voluto ancora una volta fare queste sovrapposizioni, raffinatissime come vedete, ha voluto mostrare non soltanto il volto di quel nuovo Adamo che ora appare sulla scena, ma ha voluto mostrare anche, soprattutto, il volto di Davide, del Davide perfetto, colui che ora sta per essere tradito dai suoi figli, sta per essere tradito da un suo figlio in maniera particolare, il discepolo Giuda. Entriamo ora nella seconda parte, sempre di questa prima scena, i versetti 411, è l'azione, un'azione immediata. Io vi invito ora a fare un esperimento per vostro conto, prima che io spieghi il significato di questi versetti, e voi vi accorgerete certamente che questi versetti hanno in sé un elemento particolarmente significativo, un elemento che dovreste riconoscere un po' tutti in maniera spontanea e immediata. Dal versetto quarto, Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro, chi cercate? Mi risposero, Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù, io sono. Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse, io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Domando loro di nuovo, chi cercate? Risposero, Gesù il Nazareno. Gesù replicò, vi ho detto che io sono. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché se adempisse la parola che egli aveva detto, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro, rimetti la tua spada nel fodero, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Io penso che forse siete arrivati a cogliere quell'elemento curioso perché io ho tradotto intenzionalmente, non con la traduzione più scontata, più immediata. Alla domanda risponde, Senaz, Gesù Nazareno, sono io. Ma io ho messo invece il greco, così come risuona, egoeimi. Io sono. E poi vi sarete accorti che certamente non è una semplice procedura agli occhi di Giovanni, non è la semplice procedura di identificazione del reo. Sei tu e quello dichiara di esserlo e viene tratto in arresto. C'è anche questo, è il livello storico. Ma Giovanni subito ha voluto mettere l'altro piano e ve ne siete accorti, io credo, perché l'altro piano è segnato dal fatto che appena pronunciata questa grande dichiarazione, la dichiarazione io sono e egoeimi, come si dichiarava Dio nell'Antico Testamento, avviene qualcosa di molto simile a una teofania. Tutti piombano a terra nell'adorazione e nel terrore di fronte alla divinità. E questa è evidentemente l'interpretazione di Giovanni, che mostra come in quel momento il Cristo solenne, voi avete visto che il Cristo di Giovanni avanza sapendo già quello che gli deve accadere. In quel momento il Cristo solenne appare in tutto il suo splendore, in tutto lo splendore della sua divinità. E allora voi vedete che questa azione è contemporaneamente una catechesi sul mistero di Gesù che continuamente sta diradando le sue tenebre e svelandosi. Ma anche avrete notato un particolare, la storia continua a urgere, ci sono sempre i particolari concreti. Solo Giovanni per esempio ci fa sapere che un poliziotto del Tempio di nome appunto Malco ebbe questa reazione da parte di Pietro che gli mozzò l'orecchio. Ora Malco, letteralmente un nome ebraico che significa il suo re, è un nome attestato proprio in questo periodo. Pensiamo che in Giuseppe Flavio lo troviamo citato cinque volte un nome di questo genere. E allora abbiamo davanti a noi, vedete, anche una notizia quasi di cronaca che viene messa nell'interno del racconto per scivolare subito verso la teologia. E per questo ho detto che il Vangelo di Giovanni non può essere letto in maniera banale. Bisogna continuamente scavare nell'interno. E di fatti noi vediamo che la teologia che segue è proprio in quella frase finale. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? E qui avete proprio una lettura giovanea tipica che distanzia Giovanni dai Sinottici. Facciamo il confronto. Gesù nell'orto degli olivi secondo i Sinottici. La preghiera sua. Padre se è possibile passi da me questo calice. Il calice nella Bibbia è il calice colmo, spumeggiante, è un simbolo ambiguo. Lo posso dare, come dice un Salmo, in maniera molto rubesta, non solo robusta. Quando si rappresenta il Signore che ha in mano questo calice, prende il nemico, gli apre la bocca e glielo fa bere, glielo fa ingurgitare fino alla feccia. È il calice dell'ira di Dio, calice del male, calice della paura, calice della morte. E Gesù di fronte alla morte ha paura, come ogni uomo nei Sinottici. È il Gesù molto fratello di ogni uomo che appena sente ramificarsi la mano gelida della morte dentro di sé reagisce. E questo calice non lo vuole mai bere. E in questo diciamo che le morti stoiche non sono necessariamente da esaltare come morti cristiane, perché abbiamo davanti agli occhi il nostro Signore Maestro che ha vissuto la morte come se fosse uno scandalo, gridando, lanciando un urlo, dicendo Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato e dicendo preferirei tanto non morire. Per Giovanni invece questa figura così solenne e ieratica del Cristo considera il calice secondo l'altra accezione. La seconda accezione è che è l'accezione positiva, il significato invece dolce. Il calice ricordate nel Salmo del Pastore, Salmo 23, quel calice che era sul tavolo, era un calice spumeggiante, il calice dell'ospitalità, dell'amicizia che ci si scambia, i quattro calici della cena pasquale. Difatti qui il senso è non devo forse io bere questo calice che ormai il Padre mi dona? Il calice è un dono, anche se vuol dire la morte, perché questa morte inesorabilmente si apre alla luce della resurrezione. E passiamo alla seconda scena. La seconda scena è il processo giudaico ed è scritto nei versetti 12-27 del capitolo 18. Vediamo chi sono i protagonisti soltanto. Io affido a voi la lettura di questa pagina molto calda, molto colorita anche, notturna, piena di bagliori, tragedie, drammi, tradimenti, piccoli e grandi tradimenti, balenare di personaggi strani. È una pagina scritta con grande maestria per poter fermarci maggiormente sulla pagina del processo romano. Il processo giudaico è condotto, Giovanni ci dice, anche presso Anna. Anna sappiamo che è un diminutivo di Giovanni. Questo nome, nome che indica la tenerezza di Dio, il curvarsi di Dio verso il suo fedele, un nome nobile portato da questo implacabile, terribile, sembra, pontefice, capo del sinedrio. Egli restò in carica, se stiamo alle notizie che ci offre Giuseppe Flavio, restò in carica dal 6 al 15 dopo Cristo, ma non si accontentò. Quando egli si ritirò nominò di fila, con brevissimo regno però, i suoi cinque figli. Gli fece nominare tutti i sommo sacerdoti, con una successione abbastanza veloce e alla fine trovò la figura adatta per far continuare il suo potere abbastanza consistente, abbastanza solido. Si affidò al genero Caifa. Caifa che restò al potere, una volta arrivato, niente meno che dal 18 al 36, battendo la resistenza quindi del suo suocero. Quindi abbiamo una figura ricordata storicamente da Giovanni, la figura di Anna, accanto alla quale si erge la figura di Caifa. Poi secondo troviamo un altro personaggio e questo altro personaggio direi è l'altro discepolo. Voi vedrete nella lettura che c'è questo altro discepolo che circola, circola liberamente per il palazzo del sommo sacerdote. Questo palazzo che pare ora forse sia stato grosso modo individuato, o almeno sia stato individuato, la sede del Sinedrio, proprio in un'area abbastanza definita, non più quella che la tradizione aveva posto al cosiddetto San Pietro in Gallicantu, che è invece una tradizione posteriore. Nell'interno di questo palazzo c'è questo altro discepolo. Su questo si è sfogata la fantasia prima dei padri della chiesa, poi degli studiosi. Chi sarà questo altro discepolo? Alcuni hanno pensato a Giuda stesso, l'altro per eccellenza ormai, che sta ormai girando per vedere come si consuma l'opera del tradimento. Altri hanno pensato a Nicodemo, che ormai segretamente era diventato uno dei discepoli. Altri ancora hanno pensato all'Evangelista, quel discepolo amato da Gesù prediletto, che si distingue forse da Giovanni di Zebedeo, l'apostolo. Alcuni hanno pensato anche a Giovanni di Zebedeo e voi direte, ma come un pescatore di Palestina, del nord, poteva avere delle aderenze nell'interno del palazzo del sommo sacerdote? La risposta forse nei Vangeli stessi, perché tra i vari discepoli ce ne sono almeno due, questi due, Giovanni e Giacomo, che appartengono a un livello sociale più alto. Perché effettivamente nei Vangeli si dice, Marco 1,20, si dice per esempio che Zebedeo, il padre di Costura, aveva anche dei servi. Era quindi uno dei pescatori più ricchi. E ancora, se voi ricordate, c'è un episodio nei Vangeli che fa capire che i sogni della madre di questi discepoli erano veramente sogni di grandeur, erano sogni di successo per i loro figli, per i suoi figli. Infatti dirà, quando tu sarai nel tuo regno, ricordati che i miei figli li devi mettere uno alla destra, uno alla sinistra, uno al ministro degli interni, uno al ministro degli esteri, con una responsabilità piena. Quindi c'era un senso probabilmente di orgoglio legato forse ad uno statuto sociale. Allora in questo caso anche il ricordo dell'Evangelista sarebbe superato dal ricordo dell'Apostolo. Non sappiamo comunque, c'è questo personaggio misterioso in quella notte, ma soprattutto, ed è questo il personaggio sul quale dobbiamo fermarci di più, c'è la figura di Pietro. Pietro è presente con tutta la modestia della sua fragilità e soprattutto è presente, come vedete, con quelle tre scansioni. Sono le sue tre cadute, i tre rinnegamenti. E mentre tutti gli altri evangelisti sinottici si sono accontentati di raccontare la storia di questo tradimento e di mettere semplicemente alla fine il suo pianse amaramente, una volta uscito quando sente quel segno, il segno del gallo, Giovanni ha voluto invece trovare un'altra soluzione, una soluzione che voi tutti sapete. Basta soltanto sfogliare qualche pagina e voi sentirete che finita ormai tutta questa amara storia di tradimenti, questa storia di debolezze, di piccinerie, di grettezze, Pietro riapparirà davanti al Cristo e Gesù per tre volte. Quasi idealmente per concedere una specie di assoluzione, di cancellazione di quel rifiuto, per tre volte gli ripeterà quella domanda che deve essere quella che brucia il peccato precedente. Mi ami tu più di costoro? E questa domanda avrà per tre volte la risposta. Tu sai, oh Signore, che io ti amo. E questa professione triplice d'amore farà sì che non esista più questa triplice professione di grettezza, di piccolezza, di piccineria. Io non conosco quell'uomo. E arriviamo ora alla terza scena, quella più importante per Giovanni, il processo romano. Sarebbe una cosa veramente interessante prendere questa pagina 18, 28, 19, 16, prendere questa pagina e disegnarla, ritrascriverla, è una cosa che non possiamo fare, voi provate ad immaginarlo, ritrascriverla su una pagina intera, su un grande foglio, quasi come su uno stampone tipografico. E mettere questa pagina così come gli studiosi hanno fatto lavorando su di essa, cioè smontandola. E hanno trovato che Giovanni, e qui si vede la raffinatezza dello scrittore anche, ha organizzato il racconto in sette scene che hanno questo andamento, provate a seguire con la mente e vedendo anche quasi graficamente il percorso. A, prima scena, B, seconda scena, C, terza scena, D, scena centrale. Poi risalendo, C' primo, C' primo, quinta scena, B primo, sesta scena, A primo, settima scena. E ha scandito le tre che scendono verso la scena centrale, le ha scandite tutte con dei verbi di movimento. Per cui noi abbiamo veramente una specie di piccolo sceneggiato in cui i personaggi si muovono. Guardate, potete fare l'esercizio adesso voi vedendo questi verbi proprio sul testo. Prendiamo la prima scena, si apre nel versetto 28, 28 e 29 troviamo il verbo condussero e uscì, uscì dunque Pilato, prima scena. Prendiamo il versetto 33 e troviamo rientrò. Prendiamo il versetto 38B, seconda parte e troviamo uscì di nuovo. Prendiamo in 19.4 dopo la scena centrale, la quinta scena, uscì di nuovo. Andiamo poi al versetto 9, 19.9 abbiamo rientrato che corrisponde al rientrò e alla fine, in 19.13 abbiamo fece condurre fuori, che corrisponde al condussero e uscì iniziali. Voi vedete che attraverso i movimenti ha voluto organizzare una serie di piccole scene che hanno tutto un significato teologico. Noi non possiamo leggerle tutte, ne scegliamo alcune fondamentali, ma soprattutto vorrei dire scegliamo prima di tutto e diamo solo uno sguardo essenziale alla scena vertice e voi vi chiederete perché la scena vertice? Questa, ma non sarebbe meglio quella grande dichiarazione che fa davanti a Pilato, quella che tra poco anche noi leggeremo, quella famosa dichiarazione sul che cos'è la verità di Pilato e la risposta è quello che Gesù ha prima pronunciato. Invece noi abbiamo questa, 19.1.3, la scena centrale, proviamo ad ascoltarla. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano salvere dei giudei e gli davano schiaffi. Perché questa è la scena fondamentale della passione, proprio perché voi vedete è tutta segnata, si può dire dalla prima riga all'ultima, da immagini regali. Voi se doveste passare tutta la narrazione della passione della Ressurrezione del Cristo, voi vi accorgete che per 12 volte Giovanni parla di Gesù come re. 12 volte, un numero emblematico. E qui in questo momento abbiamo proprio quel famoso, e penso che adesso sia facile per voi tenendo presente quell'osservazione preliminare che io ho fatto, abbiamo quel famoso gioco dei due piani. Guardate questo re sul piano della storia, è un re da burla. Ha su di sé questa corona di spine e un mantello di porpora per il gioco dei soldati ed è adorato in maniera scherzosa. Ma agli occhi del credente questo Cristo paziente, sofferente, è in realtà il vero re, colui che tra poco libererà l'uomo da questo male, da questa violenza, da queste ingiustizie. E allora la lettura, vedete, per Giovanni è fondamentale in questo momento, è capire che questo è il momento dello svelamento maggiore a cui i discepoli, a cui i lettori dovranno badare quando guarderanno il volto del Cristo sofferente. Ma noi ora passiamo all'episodio di Pilato, 18 nel processo romano, 18, 33, 38, pagine celebri questa, pagina celebre. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse, tu sei il re dei giudei, notiamo sempre questa parola, re. Gesù rispose, dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose, ma sono forse io giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? Rispose Gesù, notate, il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù, vedete questo tema della regalità del Cristo. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re? Rispose Gesù, tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato, ma che cos'è la verità? E qui abbiamo questa figura bellissima, vero? Diventata celebre nella storia, la figura di Pilato. Pilato è citato da Giuseppe Flavio, è citato anche una volta da Tacito ed è stato, è venuto alla luce, come sapete, una ventina d'anni fa, per merito di un archeologo italiano, a Cesarea Marittima, un basamento di una statua che porta quell'iscrizione Pontius Pilatus Prefectus Iudeo, Iudaice Regionis. Questa iscrizione che ora si trova al Museo di Israele, di Gerusalemme. Questa iscrizione che ricorda il passaggio in questa città, la città residenziale dei procuratori romani sul mare, in quel bellissimo teatro in cui le rappresentazioni avevano come affondare il Mediterraneo stesso. Lì ha lasciato quindi una sua traccia e Pilato è stato studiato. Io ho voluto portarvi per mostrarvi l'ultimo studio, il più completo e in assoluto su questa figura, figura che ha sempre interessato la storia. Pilato è le gouvernement de la GD Texte Monument di Jean-Pierre Le Monon, apparso nel 1981. Uno studio completo su tutti i documenti che ruotano attorno sul suo governo, un governo abbastanza di mano forte, nonostante la figura di Pilato sia diventata per eccellenza l'emblema del pilatismo ai nostri occhi. E soprattutto forse qualcuno di voi ricorderà quel breve romanzo racconto lungo di Anatole France, il procuratore della Giudea, in cui Pilato ormai vecchio sta passeggiando nei suoi poderi nella zona della Campania e passeggiando con l'ex suo superiore, il legato di Siria, ricorda quelle giornate tristi passate in quella selvaggia regione, provincia della Palestina. E a un certo momento al legato viene in mente una questione che gli aveva sollevato, ma non c'era un tale che aveva mosso le acque a Gerusalemme, un tale forse come Gesù si chiamava, che immaginava di essere una divinità o cosa del genere? E Pilato dice comincia, si ferma, pensa, prova a ritornare nei suoi ricordi e alla fine dice no no, io proprio non ho in mente nessun Gesù. Tutto era passato sul vuoto della sua coscienza di tranquillo, ben pensante, che naturalmente non aveva tempo di badare anche a questi particolari di un qualsiasi profeta di Palestina. La figura di Pilato però centra, la questione della regalità come avete sentito, e centra soprattutto il discorso sulla verità. Evidentemente Gesù non dice di essere il signore della verità nel senso greco del termine. La verità che egli vuole portare è la lesseia del Vangelo di Giovanni, la lesseia del Vangelo di Giovanni come ben sapete è la rivelazione. Io sono venuto per portare una parola definitiva, la parola stessa di Dio e per Pilato è già difficile immaginare che esista la verità. Passiamo ad una seconda scena altrettanto famosa, 19, 8, 12. Pilato ebbe ancora più paura ed è entrato di nuovo nel pretorio e disse a Gesù di dove sei? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Rispose Gesù tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Questa dichiarazione di Gesù l'ho ricordato, ho voluto ricordarla perché per lungo tempo nella tradizione antica era stata una delle prove per l'origine divina del potere e quindi anche del potere romano, di qualsiasi potere. In realtà il senso non è assolutamente questo. La frase potrebbe essere trascritta così, ve la cito con la trascrizione fatta da un grande studioso di Giovanni, Ignazio della Potri, tu Pilato eserciti su di me in questo istante un potere, il potere, perché c'è un piano stabilito da Dio nella storia della salvezza. Ti è stato dato di esercitare il potere su di me in questo momento, in questo preciso momento, perché c'è un grande progetto ed è il progetto della salvezza, della grande salvezza che io devo realizzare. E allora vedete che il potere di Pilato, potere scandaloso, alla fine drammatico, entra in quel grande disegno, il disegno supremo che il padre sta tracciando. E arriviamo ad un'altra scena, quella dei versetti 13-16, capitolo diciannovesimo sempre. Leggiamo questo ultimo testo che vogliamo considerare, nell'interno del terzo grande quadro della Passione secondo Giovanni. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei, ecco il vostro re. Ma quelli gridarono, via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato, metterò in croce il vostro re. Sentite sempre questo tema della regalità. Risposero i sommi sacerdoti, non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Allora lo consegnarono loro perché fosse crocifisso. Ecco, abbiamo una cosa interessante perché probabilmente Giovanni ci permette di vedere sulle pietre di Gerusalemme dove era Gesù in quel momento. Infatti egli ci ha dato queste indicazioni. Il luogo in cui si trovava il procuratore e Gesù imputato era il Litostroto, termine greco che significa pavimento lastricato, che in aramaico, ebraico ma è aramaico, si chiama Gabbatà, che vuol dire luogo elevato, ma questo è un altro nome, il nome ebraico di quel posto. Ora, attorno agli anni 50-55, in un monastero di suore, suore di Gerusalemme, ma che erano state fondate da un ebreo convertito al cristianesimo, Alfonso di Ratisbonne, suore di Sion, in questo loro monastero una suora, che ho avuto la fortuna di conoscere, è morta, una suora, madre Aline, aveva iniziato a fare dei sondaggi nella cantina e piano piano questa sua ricerca si è allargata fino al punto da mettere in luce un immenso pavimento lastricato, un grande pavimento lastricato. Questo pavimento lastricato era, aveva sotto di sé un'enorme cisterna di 52 metri di profondità e 18 metri di ampiezza, una cisterna che non poteva essere per una famiglia privata, doveva essere probabilmente per una guarnigione, ma soprattutto ha trovato su queste pietre, lastricato ha trovato dei segni, delle striature, striature per i cavalli, per non far slittare i cavalli, ma ancora ha trovato su una di queste pietre quel famoso gioco del Basileus, segnato appunto da una B, Basileus, il gioco del re, una specie di gioco dell'oca che i romani facevano in occasione della festa dei Saturnali, cioè l'equivalente del nostro carnevale, in cui si prendeva un re da burla, come si ricorda nel Vangelo di Giovanni. Essi per sette giorni lo si faceva capo, capo da burla, costringendolo poi evidentemente poi all'esecuzione capitale, come era il suo destino. Nell'interno di quel graffito messo sulla pietra, dove appunto si giocava con i dadi, c'è anche la del dove mettere i dadi, si è trovato anche uno scorpioncino disegnato e non sappiamo che lo scorpione era l'emblema della decima fretense, la decima legione di stanza in Palestina. Su questi materiali questa sora costruì la sua tesi di laurea alla Sorbona e da allora, anche se con la discussione di alcuni studiosi, moltissimi, quasi tutti credo quelli che sono stati in Palestina, sono scesi a vedere questo pavimento, questo litostrato, che si trova proprio nel lato nord-occidentale del tempio, laddove forse si ergeva quella celebre fortezza Antonia che erode nel 37 a.C. aveva dedicato al suo allora protettore il triunviro Antonio. Quella fortezza che era stata rasa al suolo nel 70 dalle armate di Tito e sulle quali era sorto quell'arco che ancora oggi si vede, una parte nell'interno della cappella di queste suore e un'altra parte esce sulla strada, quell'arco di Adriano costruito nel 135 d.C. e che segnava la nuova città, l'Elia Capitolina, la nuova Gerusalemme ricostruita. Ecco, entrando perciò in quel luogo forse noi abbiamo la possibilità di immaginare su quel cortile, il cortile della fortezza Antonia, Gesù davanti a Pilato per quel giudizio che è il giudizio ultimo. La parola estrema è pronunciata da Pilato e da quel momento in avanti comincia l'ultima, la quarta scena. Questa quarta scena con la quale noi concludiamo che apriamo soltanto per averla poi ancora tra le mani quando la prossima volta ci incontreremo a guardare il Cristo glorioso. Questa quarta scena inizia nel versetto 17 e si conclude nel versetto 37. Guardate i versetti, sono pochi, sono 20 versetti. Eppure Giovanni ha compresso in questi 20 versetti un po' tutta la sua teologia e ha compresso tutta la sua teologia puntando l'attenzione soprattutto su un elemento e una parola. L'elemento sarà la croce e su questa croce noi troveremo non semplicemente il Cristo crocifisso, perché noi troveremo un segno, un segno in cui si addensano tanti significati. Vedremo quell'acqua che scende dal costato, quel sangue e soprattutto una parola. Quella parola che abbiamo detto è l'ultima parola di Gesù secondo Giovanni. Sappiamo che i sinottici hanno messo parole diverse come ultime. Luca ha voluto mettere quella bella gioculatoria di abbandono citando un salmo. Padre nelle tue mani affido il mio spirito. Per Giovanni invece Gesù pronuncia una parola sola, un verbo, anche in ebraico è una sola parola come in greco. Tetelestai. E quel tetelestai, come già vi dicevo, è un po' direi la chiave di volta di quel granello di senape o quel grano che è caduto nella terra, che sta per cadere nella terra, nella terra di Palestina. Di quel modesto uomo, piccolo uomo, che fino a quel momento era passato in mezzo a loro, sì, dicendo parole gloriose, però restando sempre un piccolo uomo. Quel piccolo uomo dice tetelestai, è proprio finito, non c'è più nulla, ormai ho chiuso. Ma quella stessa parola, sapendo il significato profondo del termine telos in greco, per Giovanni diventa sulle labbra di Gesù la parola che egli lascia a coloro che credono in lui e che sanno vedere al di là di quella sua modesta figura. E il tetelestai è il segno, per eccellenza, della gloria, perché ormai tutto è arrivato al telos, tutto è arrivato alla meta, tutto è arrivato alla pienezza. E su questa parola adesso, nei minuti che ci restano, vorrei che tutti insieme facessimo una meditazione. La faremo in una maniera diversa dal solito, anche se il punto di riferimento è sempre lo stesso. Noi adesso ascolteremo prima un testo che io vi leggerò, ve lo leggerò poco prima dell'audizione musicale, come già vi avevo detto, che è La passione secondo Giovanni. Quindi prima ascolteremo questo testo di Picander, questo poeta tanto prediletto da Bach, che ha scritto questa riflessione anche sul tema, su questo tema e soprattutto sul tema della morte del Cristo. E poi ascolteremo questo brano cantato. È un brano cantato per, cantato da un basso, un'area di basso con coro in fondo. Lo ascolteremo e lo useremo un po' come meditazione perché il testo è molto bello, è molto intenso, con la pietà tipica un po' direi, tedesca se volete, ma anche con molto sentimento. E lo ascolteremo proprio cominciando a far sì che sempre ci sia, lo faremo anche la prossima volta, che accanto alla lettura della parola ci sia anche la lettura, non solo dei credenti, della liturgia se volete, ma anche la lettura della grande, del grande pensiero, della grande arte, dell'umanità che nella figura di Cristo ha consacrato un po' la sua intelligenza, ha consacrato la sua fantasia, il suo amore. Io ho voluto che per presentarci questo brano che non è facile, venisse ora a parlare qui con me per pochi minuti e ve lo presentasse un amico mio carissimo, ma conoscente anche di alcuni di voi, che però voglio ricordare a quelli che poi lo sentiranno nelle registrazioni. Si tratta forse di uno dei più grandi musicologi italiani, viventi. La sua biografia, brevissime, io ve la leggo nell'enciclopedia della musica di Garzanti, quindi è già entrato ormai anche nella storia, è il professor Federico Monpeglio dell'Università di Pavia, il quale è musicologo italiano, autore di fondamentali studi su Lodovico da Viadana e su due musicisti rinascimentali siciliani, Pietro Vinci e Sigismondo d'India. Ha curato numerose revisioni di musiche rinascimentali e barocche e di composizioni di Paganini, soprattutto ha fatto l'orchestrazione, la partitura del quinto e sesto concerto di Paganini, di cui Paganini ha lasciato soltanto la partitura per il violino. E adesso noi lo ascoltiamo mentre ci presenta questo testo, che poi io vi leggerò e insieme lo ascolteremo, trasformato dal genio di Johann Sebastian Bach. Grazie.